Mi avete chiamato, papà? Stai a sbagliar con Delia. E che mi è levata in mano. La pazienza c'è un limite. Sì, ma non è così che risolvi, va? Lo so, lo so, mi dispiace. Via qua. Via qua, fio mio. Mettete a sede. Dai retta al vecchio tuo. Non glielo puoi meno sempre. Se no, si abitua. Una. Una volta ogni tanto. Un fracco di legnate, ma forte. Così capisce. Io così ho fatto coppare a mamma tua. Ci hai mai visto ridica? E perché? Perché era mia cugina. Era di famiglia. La famiglia è importante. Ma non ricominciamo con questa storia della cugina, però. Ma da che in mondo in mondo tutti si accoppiano con le cugine. È l'unica cosa sensata da fare. Se mi davi retta e te sposavi tu cugina Deliaide... Ma Deliaide era brutta come il peccato. Papà, e dai? Ma sapeva stare al posto suo. E non mi toccava sentire sta cagnara tutte le volte. Lo so, lo so. Mi dispiace. Comunque... Alla fine dei conti, Deliai è una brava donna di casa. Solo c'ha sto difetto che risponde. Se deve imparare sta bocca chiusa. Non me la fa sentire che piangere. E fa pena. E poi c'errò il diritto di farmi una pennica in santa pace? E poi c'errò il diritto di farmi una puntata.